ciao da francesco nano benvenuta o benvenuto su scuolasuono.it questa è un'occasione particolare perché nel 150esimo anniversario dell'unità d'italia come ogni 150 anni scuola suono ha deciso di fare un regalo particolare a tutti i suoi amici abbiamo infatti deciso di mettere a disposizione come gli anni dell'unità d'italia 150 iscrizioni gratuite ad un periodo di prova di dieci giorni all'accademia del mixaggio non so se ci rendiamo conto di che cosa significa l'accademia del mixaggio è un contenitore un luogo online in cui i partecipanti hanno accesso attraverso una quota di partecipazione mensile a delle lezioni che sono praticamente delle lezioni private di un fonico un tecnico del suono molto in gamba che insegna agli allievi a mixare con il proprio computer utilizzando i propri plugin quindi senza spendere cifre esorbitanti in macchinari particolari insegna a mixare i propri brani in maniera che suonino come se fossero dei prodotti radiofonici come se fossero dei prodotti di altissimo altissima qualità e registrati con un altissimo budget e bene proprio in questa occasione abbiamo deciso di aprire le porte per un periodo limitatissimo di tempo mettiamo a disposizione 150 accessi riservati solamente agli iscritti di scuola suono.it se vuoi partecipare all'iniziativa non devi far altro che seguire la procedura come è descritta qua sotto la procedura prevede ti anticipo già il passaggio comunque attraverso paypal che quello strumento che si frappone tra scuola suono.it e la tua carta di credito ci deve essere comunque un passaggio attraverso paypal ma che funziona in questa maniera qua i primi dieci giorni di accesso all'accademia del mixaggio tu non dovrai pagare assolutamente niente cioè è proprio un regalo nostro hai accesso a tutti i materiali a tutti i contenuti dedicati ai soli membri effettivi dell'accademia del mixaggio poi se dal decimo giorno in poi vorrai rimanere iscritto vorrai continuare a gareggiare nei contest dell'accademia vorrai continuare a seguire le lezioni mie di Gaetano Cirillo il mio amico e socio nell'accademia del mixaggio nonché bravissimo insegnante di mix ebbene lo potrai fare diventerai anche tu a quel punto a tutti gli effetti un membro partecipante quindi verserai anche tu la quota di iscrizione mensile altrimenti rimarrà un regalo per il centocinquantesimo anniversario vieni ti guardi i tutorial partecipi un po al forum conosci Gaetano ci scambiamo qualche opinione dopodiché magari ci rincontriamo in un'altra occasione quindi è veramente un regalo questo senza trucco e senza inganno ti ho detto tutto quello che dovevi sapere sai che bisogna passare fare una una sorta di procedura di pagamento che però non prevede il pagamento per i primi dieci giorni il pagamento scatta automaticamente dopo dieci giorni se non lo vuoi rinnovare semplicemente mi mandi un email e quindi ti cancello immediatamente qualora dovesse partire il pagamento senza che tu invece volessi effettivamente fermarti rimanere come iscritto membro iscritto all'academia del mixaggio mi avvisi e ti rimborso immediatamente la quota di partecipazione che hai versato quindi questo è effettivamente un regalo speciale capiterà tra altri 150 anni che scuola suono faccia un regalo di questo tipo quindi nel trecentesimo anniversario dell'unità d'italia probabilmente apriremo le porte per trecento nuove iscrizioni anziché centocinquanta per oggi i posti sono limitati il tempo è poco quindi se la questione ti interessa ti consiglio di iniziare subito la procedura di iscrizione perché come stai vedendo tu questo video ci sono anche molte altre persone interessate che si stanno spingendo per accedere gratuitamente ai primi dieci giorni dell'accademia del mixaggio un saluto da francesco nano e approfitto per porgere i saluti anche dal mio amico gaetano cirillo l'insegnante dell'accademia del mixaggio ciao a tutti bentrovati ci troviamo con il prossimo video su scuola suono.it ciao da francesco nano ciao